Grande affluenza nel fine settimana ad Agrilevante 2015, l'esposizione internazionale delle macchine, impianti e tecnologie per la filiera agricola organizzata da Federuna Coma, Federazione Nazionale dei Costruttori in Macchine per l'Agricoltura, in programma presso il quartiere fieristico di Bari. Tecnologie a nuovi mercati, biodiversità, bioenergie, multifunzionalità e innovazione, un calendario ricco di appuntamenti, quello della rassegna, sempre più internazionale, che hanno caratterizzato la quattro giorni dedicata al mondo agricolo. Dalla green economy alla tutela della salute, i diversi incontri hanno permesso al grande pubblico di approfondire tematiche importanti promosse dai principali attori del comparto. Tematiche come quelle affrontate da ITABIA, Italian Biomass Association, connesse alla produzione di biometano da parte delle aziende agricole e alla commercializzazione di carburante, oppure alla valorizzazione energetica delle biomasse, un'opportunità per il settore agricolo non solo per l'abbondanza delle risorse, ma anche per il valore aggiunto delle filiere. Anche la chimica verde ha potenzialità enormi e rappresenta la fonte di energia rinnovabile principale nel mondo. Tra gli eventi collaterali, Ampio Spazio è stato dedicato da Federuna Coma al tema della sicurezza delle macchine agricole. Le attività legate alla revisione di queste macchine rivestono infatti un ruolo fondamentale nell'ambito di una strategia di prevenzione e di promozione della cultura della sicurezza sul lavoro. Grazie. Grazie. Grazie.